Un cordiale saluto a tutti voi e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV oggi è martedì 23 maggio e questa è la rassegna stampa di FanoTV sul canale 17 occhio ai giornali. Subito il santo di oggi, il santo del giorno che ricorda la chiesa cattolica oggi è San Giovanni Battista De Rossi, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.36. Allora andiamo a vedere il tempo, il tempo con la protezione civile delle marche che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso con sviluppo di nuvole comuliformi dalle ore centrali. Nel pomeriggio rovescio o temporali sparsi però nelle zone dell'entroterra. In lieve aumento le temperature nei valori massimi e stazionario in lieve diminuzione le temperature nei valori minimi. I venti saranno di brezza tesa inizialmente da nord in rotazione poi dal meridione durante la serata. Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 24 di maggio, il cielo si annuvolerà con temporali nel pomeriggio, rovesci sparsi nelle zone dell'entroterra, isolati altrove. In serata però i temporali anche di forte intensità, quindi fate attenzione domani sera, mercoledì 24, domani temporali di forte intensità lungo la fascia costiera. Anche nell'Anconetano è la simbologia del temporale di forte intensità. Le temperature sono di aumento, i venti a regime di brezza con vento moderato durante le ore centrali e poi in serata accompagnando i temporali anche lungo la costa. Giovedì, giovedì 25 maggio, residua nuvolosità con precipitazioni sulla costa sanbenedettese e poi nell'entroterra. Però sono rovesci e temporali sparsi anche intensi ma che vanno ad esaurirsi nel corso della mattinata. Quindi questo è un po' la nottata mattinata di giovedì. Le temperature sono in diminuzione. Il tempo comunque andrà migliorando nei prossimi giorni. Dunque, ieri è stata una giornata per quanto riguarda la viabilità cittadina e mi riferisco a Fano molto difficile soprattutto da quando è stato chiuso il casello dell'autostrada 14 per quei calcinacci che sono stati visti a terra vicino a un ponte dell'autostrada. Allora, il ponte spaventa chiuso il casello, è il titolo del resto del carino di questa mattina. Cadono calcinacci dal sovrappasso di Chiaruccia. La 14 diventa più lontana. Centropagina la fotografia invece del fenomeno Visse con l'entusiasmo dei tifosi pesaresi. Albenelli e tanta voglia di andare in Lega Pro dopo la finale playoff. Ripescaggio sarà difficile. Il co-presidente Bizocchi dice non ci tireremo indietro. Sempre a Pesaro il Comune per i concerti dà lo stadio Benelli e contribuirà anche alle spese per il palco. Sono confermati a Pesaro tra i vari personaggi, tra i vari cantanti anche Anastasia, così come Morricone e il figlio Andrea. Allora, sulle pagine interne abbiamo chiaramente sulle pagine di Fano la notizia dei calcinacci della chiusura del casello. Questo è il resto del carlino. Verifica il cavalcavia di Chiaruccia esclusi i danni strutturali di traffico in tilt in città. Però a questo punto andiamo... No, vabbè. Allora, intanto l'aggiornamento qual è? È che stanotte alle 3 il ponte è stato rieperto, ok? Il ponte è stato rieperto, quindi questa mattina la viabilità dovrebbe essere ordinaria, tranquilla, senza nessun problema. Tutti gli aggiornamenti sul nostro sito internet occhioanotizia.it. Sul Corriere Adriatico, anche qua, forse qui si capisce meglio e si vede meglio, anche se non vi tragga in inganno la fotografia che, visto così, pare che stia per cadere da un momento all'altro. E mi faccio riferimento a, vedete, questa situazione. Ma il problema non è qui. Questi sono semplicemente i resti dei vecchi manifesti, soprattutto quello dei circhi, che sono lì da anni, da secoli probabilmente, e che adesso fanno quell'effetto un po' brutto. Però ecco, non è lì il problema. Comunque questa è la struttura. Questo è il luogo e il ponte interessato dalle verifiche e dei controlli. Poi nella notte, ripeto, c'è stato questo collaudo congiunto dei tecnici del Comune, dell'ANAS e di società autostrade, il cui esito appunto ha portato alla riapertura questa notte alle tre del ponte. Sempre sulla pagina di Fano del Carlino, ora la Profilglas vuole stanare chi inquina. La Profilglas è un'azienda fanese, è un'azienda che ha sede a Bellocchi di Fano, lavora ad alluminio, una delle più grandi in assoluto, pronta a finanziare lo studio, ma il Comune rifiuta l'offerta. Sulla vertenza invece con Terna, che è il gestore per Enel degli impianti elettrici, si muovono i parlamentari del territorio e anche la lista possibile, il partito dell'ex PD Pippo Civati, che hanno incontrato la dirigenza, i vertici dell'azienda per capire un po' come poterli anche aiutare, nel senso che creano posti di lavoro, questa azienda crea posti di lavoro e come abbiamo visto nelle settimane scorse, purtroppo ci sono dei problemi. Per avere l'energia elettrica, per esempio, hanno un macchinario da tantissimi milioni di euro che è lì fermo perché non hanno l'energia sufficiente per poterlo fare andare avanti. A Sassonia invece cinque terrazze, guardate questo rendering, questo disegno che mostra un po' come verrà questa passeggiata dell'Isippo nella spiaggia, nella zona mare di Sassonia. Queste terrazze sono in stile renzopiano per la riqualificazione della passeggiata, Marina Group pensa in grande, Marina Group è la società che gestisce appunto questo spazio e guardate che belle sono terrazze che proprio portano sul mare. Gli affacci saranno cinque, lungo i primi 350 metri, il costo è di 140 mila euro. Dalla cronaca del Carlino andiamo a Pesaro dove alcune persone sono state derubate e narcotizzate nella notte, torna l'incubo ladri a Pantano, vittime, Adamo Lorenzetti, Pier del Roff e sua sorella. Sotto invece la notizia che in zona mare è stata trovata una donna senza vita di 73 anni, c'è stato, c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, dei pompieri di Pesaro nella mattinata di ieri in via Amendola, nella zona mare della città di Pesaro appunto dove questa donna di 73 anni che viveva insieme alla madre di 104 anni purtroppo è stata trovata senza vita. Da Urbino invece il Barocci tornerà con tutti gli onori. Allora che cos'è? Intanto ripercorriamo velocemente le date. Nel 1982 con un'azione velocissima nel Duomo di Urbino è stata tagliata una porzione di questa tela raffigurante il martirio di San Sebastiano datato 1557. Il volto raffigura Antonio Bonaventura figlio del committente. Poi il 19 maggio invece del 2017 i carabinieri su segnalazione dell'antiquario Giancarlo Ciaroni, che è nella fotografia con gli occhiali, vedete, sequestrano il dipinto da una casa d'aste di Genova e adesso tornerà a Urbino con tutti gli onori. Corriere Adriatico, la prima pagina, la rivoluzione dei rifiuti, passa per il porta a porta, si sperimenterà a Pesaro la raccolta domiciliare dell'indifferenziato e spunta anche un maxi investimento. Rinnovata la passeggiata dell'Isippo con 5 terrazze, previste aree di sosta con sedute panoramiche, presentato il via dei lavori, la fine tra un mese. Lo smartphone, attenzione, influenza anche i neuroni. Ecco i rischi. Uno studio dell'area vasta sugli adolescenti, che è durato credo circa tre anni, dice che il 2% soffre di dipendenza da smartphone, ma sarà anche forse qualcosa di più. Pericoli per l'8%. E c'è tutta la ricerca in questo pezzo che troverete sulla pagina di Frato Ernesto del Carlino. Si rafforza la memoria a breve termine, ma si indeboliscono le capacità logiche del tipo diventiamo tutti un po' più stupidotti, nel senso che ormai beviamo tutto quello che ci danno, ma senza più ragionare, senza più riflettere su quello che ci viene proposto attraverso, per esempio, le notizie, i social network. Ecco perché lo sviluppo così incredibile, impressionante, delle fake news, cioè le notizie false, che poi vengono stracondivise da tutti. Perché? Perché ognuno adesso non c'è più la capacità di capire quello che è vero e quello che è falso. Prendiamo e beviamo tutto quello che ci passa. Allora, l'area vasta. Siamo sulla pagina di Urbino, in tre mosse, grossi accuse del Comune. Siamo su Fermignano, è stata bocciata maggioranza la mozione sulla sanità presentata dai capigruppo consigliari della minoranza Mauro Grossi, Movimento 5 Stelle e altri. Sulla pagina della Valle del Cesano, invece, da Monteporzio, un percorso naturalistico per accorpare due parchi. Il progetto dei volontari del GATT vuole proteggere l'ecosistema del Cesano. Sotto, invece, guardate l'edicola religiosa profanata. Siamo a Mondolfo. C'è stato questo atto vandalico grave e sacrilego, quello che è successo l'altra notte, fra sabato e domenica, a Mondolfo, dove alcuni ignoti hanno gettato a terra la statua di San Giuseppe, che era in questa edicola sacra, collocata nella centralissima piazza Don Benzoni, a due passi dal comando E adesso, invece, da Pergola parte l'assistenza domiciliare a favore dei malati oncologici, da due mesi al lavoro un'equipe di professionisti con prestazioni gratuite. L'ultima pagina è per quella di Senigallia. Assalto al distributore sulla statale, divelta la colonina dei self-service. Terzo colpo e sempre con le stesse modalità, in pochi mesi, nell'area di servizio Kuwait a Cesano. Guardate, vi abbiamo fatto vedere anche un servizio in telegiornale. Guardate come i malviventi hanno ridotto queste colonnine. Ormai va di moda, vanno a prendere queste colonnine, le strappano via con qualche mezzo pesante. Andiamo prima di salutarci sul sito internet, il nostro sito internet, occhiolanotizia.it. Vedete, in primo piano abbiamo messo l'ultima ora che riguarda il casello, che riguarda il ponte, i calcinacci che sono trovati sotto il ponte. Ultima ora, riaperto il casello autostradale, entriamo nella pagina interna e sotto e dentro troverete anche le fotografie che riguardano proprio la nottata. E' stato riaperto, dicevamo, alle tre di notte, una nottata di verifiche e controlli a cui hanno partecipato i tecnici del Comune di Fano, i Vigili del Fuoco, i responsabili di Autostrade per l'Italia e ANAS. Ecco il punto, vedete, il punto incriminato, quello che hanno verificato i tecnici, appunto, i Vigili del Fuoco e i tecnici di ANAS e Società Autostrade. E' tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, il nostro numero di telefono 338 496 8250 è sempre a vostra disposizione per le vostre segnalazioni, anzi, permettetemi di ringraziarvi perché siete tantissimi oggigiorno, riceviamo tantissime segnalazioni molto utili che poi si trasformano in notizie che troverete, come sempre, alle 20 e 30 nel nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per aver guardato il video.